Sia lodato Gesù Cristo Pace e bene Questa che celebriamo è la terza domenica di Avvento Siamo già a metà di questo cammino di attesa La nostra vita è tutta un'attesa È fondata su una fede che diventa anche speranza La fede senza speranza non ha senso Cioè noi crediamo e speriamo Ma la nostra speranza non è fondata su quello che constatiamo Perché se dovessimo partire dalla constatazione di ciò che accade Saremmo disperati perché sembra che non cambia nulla Il mondo non cambia Nel passato c'erano delle ideologie che pensavano alla possibilità di un cambiamento Ora siamo tutti un po' delusi Nessuno aspetta più grandi cambiamenti Ma i cristiani continuano ad avere speranza E quindi la nostra speranza non è fondata su quello che vediamo Sui fatti Ma è fondata sulla promessa del Signore Cioè se noi ci impegniamo in questa storia Nella nostra vita Non è perché noi vediamo qualcosa che ci aiuta a dire Possiamo sperare Ma lo continuiamo a fare perché crediamo nel Signore Ecco La speranza quindi è l'espressione della fede Che si concretizza però poi in un impegno di amore Perché la speranza si paga Questa speranza che noi cristiani continuiamo ad affermare Contro ogni speranza Perché lo vediamo nel mondo in cui noi siamo Qui si parla sia il profeta Isaia sia anche il Vangelo Parla di cose che non riusciamo a guardare Insomma A vedere Gli zoppi camminano I lebrosi sono purificati I sordi odono I morti risuscitano Ai poveri ha annunciato il Vangelo Ecco tutto questo Sì certamente opera del Signore Però Non lo vediamo Quindi ci scandalizziamo Allora dice Gesù beati coloro che non si scandalizzano di me Perché potremmo essere anche noi cristiani Noi che diciamo di credere scandalizzati Perché Dopo duemila anni di cristianesimo Sembra che non cambia niente E invece no Noi siamo legati Impegnati A testimoniare la nostra speranza E la nostra speranza la testimoniamo con i fatti I nostri fatti Cioè con l'impegno che noi mettiamo Nel fare Nel cambiamento Non aspettiamo che ci siano grandi rivoluzioni Però Dal di dentro speriamo Nel profondo speriamo E ci impegniamo Perché qualcosa cambia Certamente bisogna avere molta pazienza Ce lo dice Giacomo Che ci invita proprio alla pazienza Siate costanti fratelli Fino alla venuta del Signore Guardate l'agricoltore Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra In che abbia ricevuto le prime e le ultime pioggi Siate costanti anche a voi Rinfrancate i vostri cuori Perché la venuta del Signore è vicina E non lamentatevi fratelli Gli uni e degli altri Per non essere giudicati Ecco Perché ci perdiamo a volte in chiacchiere 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 Però Di fatto Quando dobbiamo decidere Qualcosa di sostanziale Qualche cambiamento Anche nella nostra vita Ci fermiamo Ecco Non riusciamo Ad andare avanti Per cui noi Parliamo sempre di riforme Riforme Ma non cambiano nulla Ecco Tutte queste riforme Ci sono quelli che propongono riforme Gli altri Finché non si va alla radice dei problemi Cioè per cui I poveri hanno da mangiare Hanno da Crescere nella cultura Hanno la casa Hanno Cioè finché Non ci sia Perché non ci sia la pace in questo mondo La giustizia Siamo sempre punto e a capo Ma noi su questo dobbiamo Impegnarci come cristiani Nel nostro piccolo Dobbiamo farlo Ma il nostro piccolo È l'apertura Verso qualcosa Verso qualcosa di grande Per cui Ecco il senso Di quello che dice Gesù Giovanni Battista È colui che Fa una domanda Ma lo fa Dalla prigione Non è un borghese Che si diletta A porre interrogativi Giovanni Battista È un uomo Che sta in prigione Perché È stato testimone di verità Contro il potere Di Erode È bene messo in carcere Perché aveva detto la verità Ad Erode Non ti è lescito Cioè al potere Dice non ti è lescito Questo Noi non siamo capaci Di dire spesso al potere Non ti è lescito O lo diciamo solo Secondo la misura Dei nostri interessi Ma non ti è lescito Se l'oppressione Non ti è lescito Anche se tu hai buona volontà Perché il sistema stesso In cui noi viviamo È un sistema E allora dobbiamo cambiare Dobbiamo Impegnarsi a cambiare Radicalmente il sistema Che non sia semplicemente Un po' di aggiustamento Ma sia qualcosa Che realmente Vada a vantaggio In modo che Quello che dice qua Il Vangelo Sei tu colui che deve venire O dobbiamo aspettare un altro Gesù rispose loro Andate e riferite a Giovanni Ciò che udite e vedete I ciechi Riacquistano la vista Gli zoppi camminano I lebrosi sono purificati I sordi odono I morti risuscitano Ai poveri Ha annunciato il Vangelo E conclude Gesù E beati Beato colui Che non trova in me Motivo di scandalo Motivo di scandalo Significa qualcosa Che mi fa cadere Un ostacolo Che mi si mette davanti Gesù non vuole essere Un ostacolo Che ci faccia cadere Nella delusione Con le sue promesse Invece lui ha la forza Perché queste promesse Vengano realizzate Quindi dipende Dipende proprio da noi Questo impegno A realizzare E l'attesa Questo periodo di avvento Che noi Stiamo celebrando E' proprio Questo bisogno Che c'è dentro di noi Noi non coincidiamo Con noi stessi Con quello che facciamo Noi siamo anche oltre Realizziamo delle cose E dobbiamo andare sempre oltre La speranza è fondata Sulla nostra umanità Che va sempre avanti Ma in questo caso E' Dio che ci chiama A realizzare cose nuove Ecco Un impegno nuovo Anche se siamo paralizzati Dalla delusione Di quello che non cambia Perché Ecco Ecco a volte Noi ci sediamo Non c'è niente di fare Ecco E quindi Stiamo con le mani in mano Il mondo va così Non si può fare nulla E allora E allora E allora il Signore E' Lui che ci chiama E ci dice Che si può cambiare Che si può andare avanti Che Che dobbiamo essere impegnati E pagare di persona Se è necessario Come Giovanni Battista Ecco I problemi dobbiamo vederli Dal punto di vista Di Giovanni Battista Cioè dal punto di vista Di coloro che sono oppressi Non dal nostro punto di vista L'abbiamo visto Dal punto di vista Dei disoccupati Di coloro che non hanno casa Di coloro Che devono Sono costretti a emigrare Da questo punto di vista Dobbiamo parlare di speranza Ecco E per questo Noi dobbiamo Impegnarci E allora La nostra speranza Fondata sulla promessa Del Signore Diventa qualcosa di Importante Qualcosa di reale Credo che sia questo Un modo Piccolo Se volete Nelle piccole cose Con cui noi possiamo Prepararci Al Natale E facciamolo allora Facciamo cose concrete Non soltanto Un gesto di alemosina Per mettere il nostro A posto La nostra sensibilità Ma un impegno Reale Quotidiano Ecco Che si mette Dal punto di vista Di coloro che realmente Si trovano In difficoltà E aspettano E sperano Un cambiamento Profondo Nei rapporti sociali E io vi auguro Una bellissima Domenica Sia lodato Gesù Cristo Pace e bene E io vi auguro E io vi auguro E io vi auguro E io vi auguro